Volare appesi ad un cavo d'acciaio sospeso tra le montagne, per molti una pazzia, per tanti altri un'esperienza unica. È quello che si sta cercando di realizzare ad Atena Lucana. Un progetto simile a quello del Volo dell'Angelo in Basilicata sta proseguendo nella sua realizzazione infatti anche ad Atena Lucana, dove una società romana ha individuato nella zona la possibilità di realizzare un attrattore simile a quello lucano da denominare Volo dell'Aquila. La zona di partenza del Volo dovrebbe realizzarsi in località Serra d'Atena e l'arrivo nel centro storico a Monte di Via Indipendenza nei pressi della località Porta d'Aquila. Un progetto definito di notevole interesse da parte dell'amministrazione di Atena Lucana, poiché porterebbe sicuramente migliaia di visitatori all'anno, facendo così sviluppare le attività territoriali, tenendo conto dei successi ottenuti nelle altre realtà dove esiste un progetto simile. La ditta interessata al progetto ha proceduto a fare l'offerta e a consegnare tutta la documentazione di rito, fanno sapere dall'amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Iuzzolino. Ora, dopo il progetto definitivo, attendiamo la consegna dell'esecutivo e del business plan. Il progetto dunque va avanti, infatti durante il Consiglio Comunale dello scorso 27 aprile, tra i punti all'ordine del giorno, c'era proprio la procedura di utilizzo del suolo pubblico, procedura contestata dal gruppo di opposizione libera, formato dai consiglieri di minoranza Francesco Manzolillo e Luigi Vertucci, che durante la seduta del Consiglio ha espresso i suoi dubbi in merito alla vicenda. A parere dei consiglieri Manzolillo e Vertucci, questo atto era carente su due punti. Il primo, per quanto riguarda il compenso annuo che questa azienda dovrebbe elargire al Comune di Etanutana, pari a 500 euro, a noi sembra molto, molto esiguo, visto che per terreni molto più piccoli di estensione, dove è situata l'antenna della Wind, la Wind dà al Comune di Etanutana annualmente 13.500 euro. Il secondo punto molto importante per noi è che questo deliberato non è conforme a quando stabilito dalla delibera di giunta regionale 368 del 23 marzo 2010. Questo che cosa significa? Può significare che questo atto venga rigettato dalla regione Campania e quindi ci chieda integrazione e quindi ulteriore perdita di tempo. Intanto l'iter va avanti e l'amministrazione comunale presenterà in settimana alla regione Campania la richiesta di sgravio degli usi civici e le altre autorizzazioni necessarie. Grazie.